Pescara in ritardo, le gambe non girano come dovrebbero. I carichi di lavoro sono da considerare perché pesanti ma esistono anche per gli altri e non possono spiegare tutto. Due finora gli impegni probanti contro Reggiana e appunto Pineto neopromosso in C, altrettanti K.O. con tre gol realizzati e otto subiti. Sul piano tattico c'è ancora tanto da lavorare, evidenti buchi lasciati nella fase difensiva con le mezze ali e i terzini altissimi e i centrali costretti a coprire tanto trappocampo. In più Pellacani e non solo lui, in chiara difficoltà dal punto di vista fisico, non sta ancora bene e si vede. Pineto senza dubbio più brillante sotto l'aspetto atletico quando l'undici di Amaulo è ripartito, ha sempre creato pericoli. Certo, vietato esprimere giudizi definitivi e perentori, ma è sempre più netta la sensazione che per ambire a un torneo di vertice ci sia la necessità di innervare la rosa, dove di certo in difesa e a centrocampo e anche le prestazioni dei due portieri cominciano a destare qualche perplessità. Plizzari incerto nel match di Coppa, ieri lo stesso Ciocci ha sbagliato in occasione del secondo gol del Pineto. In generale tanti giovani di prospettiva, ma privi di esperienza. Al momento la rosa è inferiore e non di poco rispetto a quella dello scorso anno. Zeman è un maestro, ma non un mago. Per essere protagonisti in C, lo impone la storia del club serve altro. Saremmo eventualmente felici di essere smentiti.